Si è deciso di approvare, di reiterare come è accaduto per il documento unico di programmazione quello che accade da tre anni, cioè che hanno stabilito i commissari, ovvero la morte degli asili comunali. E io non ci sto, perché gli asili comunali sono stati per la storia di questa città un'eccellenza, ma riconosciuta non da Giuseppe Meniero, riconosciuta sistematicamente con premi nazionali e anche conferiti da Presidente della Repubblica. È un regolamento che praticamente cerca di salvaguardare quelli che sono anche un po' i disagi, le famiglie disagiate che sono presenti nel nostro territorio. Poi da lì c'è stato spunto per parlare del momento a scuola, quasi fare uno stato dell'arte di quello che è il momento, che non era in programma assolutamente. Però i problemi sicuramente sono quelli del rilancio delle nostre scuole, sia del nido che dell'infanzia.